cari amici del canale youtube dentro la notizia quest'oggi seguitemi fino in fondo perché tratteremo parecchie importanti notizie anche se non è la prima volta che la merkel è stata proposta per un futuro all'interno delle migliori istituzioni dell'unione europea è per la prima volta che juncker ha espresso il parere che angela merkel non può sparire senza lasciar traccia secondo il presidente della commissione europea la cancelliera essendo molto rispettata in europa sarebbe professionalmente in grado di assumere una posizione di leadership a bruxelles la cancelliera è purtroppo insistentemente indicata come presidente della presidenza del consiglio europeo che riunisce i leader degli stati membri ricordo che l'attuale presidente donald tusk è in carica fino al 30 novembre d'altra parte uno dei più seri contendenti alla presidenza è il primo ministro olandese mark rutte mark rutte è considerato un influente politico a bruxelles e un buon costruttore di ponti non solo a berlino ma anche a parigi se mark rutte e macron si incontrano i liberali europei possono rappresentarsi nel consiglio europeo con un massimo di otto capi degli stati membri che possono decidere in maniera determinante il prossimo presidente ha così scritto il centro politico europeo a bruxelles di recente il portale di notizie politico ha riferito che i paesi bassi vogliono almeno una posizione di primo piano nell'unione europea e oltre alla presidenza del consiglio di rutte chiedono anche la presidenza della commissione europea di france timmermans andiamo bene dalla padella alla brace mentre secondo un rapporto della rivista tedesca der spiegel merkel vorrebbe un politico tedesco come presidente della commissione europea così ha caldeggiato manfred weber il governo ungherese è stato accusato di diffondere falsità da jean claude juncker come si legge sul berliner morgen post alcuni stati membri dell'unione europea stanno cercando di guidare gli elettori in una certa direzione attraverso false notizie così ha detto il presidente promettendo che dopo pasqua agiranno di più contro le notizie false andiamo bene non bastano le norme sul copyright adesso abbiamo anche le minacce di juncker peter ziarto ministro di affari esteri ungherese ha risposto alla nuova accusa in una dichiarazione inviata ieri a mtv con queste parole l'europa ha bisogno di nuovi leader di quelli che riconoscono gli interessi del popolo europeo e sono in grado di proteggerli e ha dichiarato che juncker ha fallito come leader europeo il presidente degli stati uniti donald trump ha parlato ieri per telefono con il presidente del consiglio italiano giuseppe conte lo ha riferito trump stesso via twitter ho parlato con il primo ministro italiano giuseppe conte soprattutto abbiamo parlato di immigrazione tasse commercio ed economia dei nostri paesi una telefonata molto buona che cosa avrà mai detto il presidente del consiglio conte da rendere così felice trump teremo il faro puntato anche su questo il 17 aprile il parlamento europeo ha approvato in via definitiva il regolamento che potenzia l'agenzia frontex rafforzando come precedentemente concordato con i ministri dell'unione europea la guardia di frontiera e costiera europea con l'introduzione di un corpo permanente di 10.000 unità entro il 2027 l'italia fornirà a regime 610 persone e sarà il terzo paese per numero di personale fornito dopo germania e francia tra i compiti dell'agenzia vi sono il monitoraggio dei flussi migratori della gestione delle frontiere esterne da parte degli stati membri il fornire assistenza nei rimpatri e nelle operazioni di ricerca e soccorso in mare l'assistere gli stati con interventi rapidi alle frontiere in caso di necessità l'eurodeputato del movimento 5 stelle ignazio corrao ha criticato in aula il regolamento sul nuovo corpo di guardia di frontiera europeo con queste parole ci siamo opposti a questa riforma perché la sovranità dei paesi nella gestione dei propri confini è compressa in modo eccessivo inopportuno si dà la possibilità alla commissione di commissariare lo stato membro ritenuto non in grado di gestire le frontiere fino a dare agli stati confinanti la possibilità di reintrodurre controlli alle frontiere interne qualora le raccomandazioni dell'agenzia non siano correttamente attuate vigileremo anche su frontex e sul suo utilizzo sempre il parlamento europeo con 603 voti favorevoli 17 contrari e 27 astenuti ha varato nuove regole per garantire l'affidabilità e la trasparenza della procedura di valutazione dei rischi per la sicurezza alimentare nell'unione europea anche queste norme erano già concordate con i ministri dell'unione europea e si prefiggono di creare una banca dati comune europea degli studi commissionati per dissuadere le imprese che richiedono un'autorizzazione per la vendita di un alimento dal non divulgare gli studi sfavorevoli ciò consentirà all'autorità europea per la sicurezza alimentare l'efsa di rendere pubblici tutti gli studi presentati e consentirne l'analisi da parte di terzi il consiglio deve ora come nel caso di frontex approvare il testo prima che questo possa entrare in vigore paolo de castro dem e primo vicepresidente della commissione agricoltura del parlamento europeo ha commentato così il voto dell'assemblea l'autorità europea per la sicurezza alimentare l'efsa di parma potrà beneficiare di maggiori finanziamenti per la valutazione dei rischi legati alla sicurezza degli alimenti quindi di una maggiore indipendenza di giudizio con procedure ancora più trasparenti nei confronti degli oltre 500 milioni di consumatori europei l'obiettivo che vogliamo raggiungere è ambivalente da un lato mettere fine alle controversie sull'autorizzazione e il rinnovo di alcuni prodotti sensibili quali i prodotti fitosanitari come il glifosato dall'altro dare certezza giuridica ai nostri agricoltori e produttori e riconquistare la fiducia dei consumatori verso il settore agroalimentare correva l'agosto del 2017 e l'italia subiva un'immigrazione di massa e fuori controllo da parte degli immigrati partiti dal nord africa il sindaco leghista di palazzago michele jacobelli per primo tentò di arginare il nefasto fenomeno di navi e barconi che riversavano gli immigrati nei centri di prima accoglienza di tutto il paese ma la lobby delle ong capeggiata dall'associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione asg finanziata ovviamente e come sempre da george soros aveva fatto causa e portato in tribunale jacobelli che però come riporta anche il quotidiano la verità gli ha dato torto stabilendo che controllare i migranti non è affatto un reato la cooperativa bergamasca rua dette inizio due anni fa ad una serie di iniziative legali contro i comuni di palazzago pontida palosco seriate ardesio grazie al supporto dell'asg che come dicevamo è finanziata da soros e si prefigge di contribuire così leggiamo nel suo statuto online con i suoi documenti all'elaborazione dei testi normativi statali e comunitari in materia di immigrazione asilo e cittadinanza per promuovere nel dibattito politico parlamentare e nell'operato dei pubblici poteri la tutela dei diritti nei confronti degli stranieri ecco cosa scrive il tribunale di bergamo la lettura ancorché complessiva dell'ordinanza su riportata non riesce a parere di chi scrive in alcun modo a concretare un comportamento o un ordine che possa dirsi discriminatorio in nessuna parte dell'ordinanza viene percepita l'idea suggerita dalle ricorrenti del rifugiato come pericoloso o malato piuttosto si indica che il fenomeno incontrollato dell'insediamento di masse imponenti di persone è foriero di disordine pubblico e causa di problematiche anche di tipo sanitario ciò divergendo profondamente dall'idea che i rifugiati in quanto tali siano persone moleste ma c'è dell'altro nel caso del comune di pontida il giudice ha ben specificato che richiedere ai proprietari degli immobili da utilizzare per i rifugiati o per gli immigrati che i locali siano a norma e quindi agibili non rappresenta in alcun modo una molestia uno svantaggio o un pregiudizio cari amici anche quest'oggi abbiamo potuto considerare importanti notizie da condividere con amici e conoscenti iscrivetevi numerosi al canale youtube dentro la notizia per essere sempre informati su quanto accade in italia e in europa se apprezzate il lavoro che stiamo facendo per il bene di tutti sosteneteci con una donazione che ci incoraggi a fare sempre meglio un abbraccio dal vostro roby